Sì, sono meglio o sono pinte? C'è una fighetta, eh? Quanti sono, Piero? Ma un trentino comodo, buono Piero. E' il temi pieno? Eh sì, 30 dati in Piero. C'è una mano e il fiocchietto un po' non l'altro. Ma che è il secondo Piero, il ribraccio è ottimo. E' anche Bonnautic. Ecco la Bodrum, Turchia. E questa è Koss, Grecia. Questa è la radina, questa è la radina questa. 10 nodi, punto 5. Questa è la radina. Parti 47 ed edi blu L'applicazione a costo del canneso a scimi 36.000 metri a 30 nodi, una mano di versaroli e Giano Arrollano. In coraggio, Sì, grazie. Silvia? Comoda o no? Ecco la costa di Kos, la nostra dritta, metti temi sui trenta nodi. Quina sullo sfondo di Nisiros, vulcano del canzonello. La nostra fruva con estrema punta occidentale della penisola turca di Daccia, sullo sfondo di Nisiros. La nostra fruva, che interessa, con una uova linea di Valle. La nostra fruva. La nostra fruva. La nostra fruva. eh quanto ragazzi è quello famoso dai è un uno di più persi tutti no è un'unfessibile però è senso Sulla prua Simi, perla del Dodecanneso, sulla sinistra la lunghissima traccia di Arimadati, Venito e Traccia, Turchia, metto ovviamente i primi, vabbè in Grecia, tutto il Dodecanneso, con Cibera con le cose di scidole, questa è Traccia, con il Dodecanneso, con il Dodecanneso, con il Dodecanneso, con il Dodecanneso, ed eccola sulla dritta Simi, porta anfiteatro del Dodecanneso, appena passato, è di blu, dal passaggio tra Nisort Simi e Nisort Minos, e adesso buttiamo verso il porto di Simi. Sì, è un po' frufonda a due parti, è buccanica? No! Guarda l'appellino a magliarci, eh? Vedete queste catette qua, in questa sinistra natura qua, ho visto che c'erano sui 10 metri, Sì, è un po' più chiaro qua. Sì. Ricordi quella volta ai 5 di macchina, quando ando a fare una cosa, ti ricordi? Ma qui era tutto pieno? No, qui era tutto pieno, non c'è nessuno, com'è? Ma pure il capo era pieno. E' accoste, stanno tutti accoste. Chi era tutto pieno? Chi non si può? Sì, no, sì, è un po' pieno adesso. Tutti i bambini che ci sono pronti, no? Sì, per le notte? 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 Non sorti i minuti che aventoffi No? Bling pare 진짜 tutte le notteался Sì ho mm, mi province veste Grazie a tutti. E tiri la maschera? Sì.